ben trovati nell'angolo dello sport in questa puntata parleremo di motoshow a monte silvano e della pescara calcio per quanto attiene il motoshow vedrete ecco qui nella foto che ha scelto il mio regista leo di blasio vedete andrea dovizioso 30 anni della ducati e dovizioso e la ducati che rappresenta un po la rossa delle due ruote sono il gruppo tutto italiano pilota italiano moto italiana quindi grande soddisfazione per gli appassionati di motociclismo diciamo che nel motoshow di monte silvano stanno arrivando molte adesioni e soprattutto procede alacremente la l'organizzazione così come mi viene assicurato dall'addetto stampa andrea colazzilli e intanto è importante mettere in evidenza che francesco sini del team solaris motorsports rappresenta al racing show di monte silvano ma a detta di colazzilli ci sarà anche una sezione auto e moto d'epoca una esposizione di vari modelli per i 70 anni della vespa più un docu film su corradino da scannio è opportuno anche che io vi ricordi che tra gli ospiti sarà anche il il guru del giornalismo motociclistico che paolone beltramo ma ci sarà anche stefano pallotta presidente dell'ordine dei giornalisti abruzzesi è il momento di parlare del pescara intanto sono voci di mercato anche se siamo fuori tempo perché non fuori tempo prima del tempo perché semmai le operazioni si farebbero a gennaio ma a gennaio ci sarebbe il rischio di perdere ma tra virgolette perdere zampano per il quale sono arrivate delle offerte molto interessanti dalla fiorentina e da altre società però l'accordo sarebbe sempre questo ti vendo zampano però me lo tengo fino a fine campionato e nello stesso tempo c'è da dire che c'è un movimento importante per quanto riguarda il calcio nazionale immaginate che abbiamo verratti lapadula immobile insigne politano e per in tutti ex giocatori del pescara e tutti chiamati nella nella nazionale maggiore inoltre c'è da ricordare che cristanti è stato chiamato nella under 21 così come ben alì convocato nella sua nazionale una notizia intanto che riguarda la rosa di allo ibrahima classe 1998 è stato tesserato questo è un ragazzo che viene dalle nostre giovanili diciamo quindi è stato tesserato per rinforzo alla difesa e speriamo che sia l'occasione giusta per trovare un ragazzo giovane forte dicono fisicamente molto forte e tecnicamente oltretutto molto dotato in chiusura di questo intervento posso ricordarvi che c'è stato un incontro in regione per il nuovo stadio ma anche lì ci sono dei problemi sono stati chiesti ulteriori correzioni al progetto presentato quindi o si danno una mossa in una certa direzione oppure potrebbe slittare di parecchio la possibilità di vedere risistemato il lo stadio adriatico comunque sia il pescara come sapete dopo la batosta subita con l'empoli ha avuto una sorta di punizione da parte della società i giocatori sono rimasti in città continuano a lavorare e continueranno a prepararsi per la prossima trasferta fra 15 14 giorni insomma quello che è domenica l'altra insomma perché ci sarà l'incontro con la juventus prima in classifica quindi uno scontro insomma tra tra Davide e Golia come si suol dire un affettuoso abbraccio come sempre da Gianni Lussos vorrei ringraziare il mio regista Leo Di Blasio anche per la pazienza dimostrata nel cercarmi le foto giuste per arricchire questa nostra rubrica appuntamento alle prossime edizioni di tvq sport appuntamento alle prossime appuntamento alle prossime